Eccoci quindi pronti per il secondo raggruppamento, quello dei cani di tipo Pinchersnauzzer Molossoidi, un insieme di razze particolarmente adatte alla guardia, alla difesa, razze da utilità. Introduciamo il giudice che sceglierà il miglior rappresentante del secondo gruppo, dalla Germania, from Germany, Christopher Habik. Qui come Christopher? Ed ecco quindi a voi l'Alano Fulvo, l'Alano Arlecchino, l'Alano Blu, il Massino Napoletano, il Terranova, il Massino dei Pirenei, il Bull Massif, il Canecorso, il Leonberger, Old English Massif, Tozainu, Broholmer, Dogo Argentino, Tibetan Mastiff, Dog de Bordeaux, Central Asen of Charka, Anatolian Karabash, Ofavat, Fila Brasileiro, Ciorny Terria, Mastino Espagnol, Bernard Zennehund, Perodogo Mallorchino, Bulldog francese, Bulldog inglese, Rottweiler, Boxer, Schnauzer Gigante, Pepe Salle, Schnauzer Gigante Nero, Charplanina, Doberman, Bovaro di Appenzel, Schnauzer Pepe Salle, German Pinscher, Schnauzer Nero, Schnauzer Nano Pepe Salle, Schnauzer Nano Nero, Schnauzer Nano Nero Argento, Schnauzer Nano Bianco, Pinscher Nano, e chiudiamo con Affen Pinscher, la razza più piccola del secondo raggruppamento. Come dicevamo prima abbiamo in questo raggruppamento e anche in questo ragazzo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E dopo l'Alan Orlecchino è il turno del Bull Mastiff. Quindi... Togo Argentino. Grazie a tutti. Mastino Spagnolo. Mastino Spagnolo davanti al nostro giudice Christopher Habe. Ed è quindi il turno del bovaro del Bernese, Bernard Sennenhund. Uno dei quattro bovari svizzeri citati anche nella denominazione di questo raggruppamento. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.